Vuoi vedere un film? È l'una di notte. No, conosco un posto. Solo che non ci andrei mai con quelle scarpe. Come fa un cane a svitare il tappo di una boccetta di pillole? È un indovinello? Ci vuole un pollice opponibile. L'avrò lasciata aperta. Per terra? Credo che sia saltato sulla mensola del bagno. All'altrità. No! Stavolta non c'entro. No, è il tuo stramaledetto cane. Mangia qualsiasi cosa. Non trovavo una cartella. C'erano pezzi di carta nella cacca. Un disco originale della Sun Record di Elvis è sparito. Digerisce anche il vinile. Non lo sopporto più. Ha avuto una vita lunga e felice. È giunta la sua ora. Tutto a posto? Ma ho solo inciampato nel moralismo di Wilson. Risultati? Matti è negativo a tutto. Non è autoimmune. Resta solo l'infezione. Nick è peggiore a vista d'occhio. Ha i matomi su entrambe le braccia. I capillari cominciano a rompersi. Se succede nel cervello è morto. Ci resta solo il donatore quattro su sei. Ho già espresso le mie riserve sul fatto che quattro è meno di sei. La prima moglie di Wilson non ha considerato la cosa. Quella volta è stata fatale solo al loro matrimonio. O il donatore o cominciamo a fare test casuali per le infezioni. So che ho di la parola casuale. Fateli in ordine alfabetico. Non faremo quel cavolo di trapianto. Dov'è Foreman? Abbiamo trovato un donatore. Non ha una compatibilità totale. Ma quattro su sei è una buona percentuale. Quattro su sei è una buona percentuale. Quattro su sei è una buona percentuale. Quattro su sei è un donatore. Grazie a tutti